ma cosa c'è lì sotto c'è un trattore due i miei trattori sono arrivati anche loro nella mia piscina si sono nascosti sotto i palloncini aspetta ma ce ne sono altri qua mamma mia sono quattro io credo che c'era ancora uno erano cinque c'è un trattore bellissimo guardate no 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 aspetta ma hai lavato anche questo grande neanche non l'ho visto è così grande che neanche non ah 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 No, no, stai fondando, stai con me Bambini, chupoppini, 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 chupoppini Tu che hai pensato? Oh mamma mia, questo è il bello Dove è qui? Adesso vedrà Oh mamma mia Ah ma è qua Ho preso il palloncino più bello del mondo Allungino Sto ruotando, sto ruotando C'è un fucile assalto C'è un fucile assalto C'è un fucile assalto No Oh Eppi Ai qua Ah no no, 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 no... Sì, sì, sì. ragazzi mi sono divertiti tantissimo nella mia piscina con i miei trattorini ciao ci vediamo domani come smo budete tantissimi poli cani ciao ciao